Il primo passo verso il successo. PS Record. Studio di registrazione digitale. Next Generation Sound. I suoni più attuali. Gli arrangiamenti di tendenza. Lo studio preferito da noti artisti. PS Record. Demo e CD Production. Dal provino al mastering. PS Record. Digital Studio. Arrangamenti e riprese live. Info 339 741 4372.